In una scala da 1 a 10, come valutareste il bacio di ieri sera? Guarda chi ha deciso di unirsi a noi. Bene, conoscete tutti il piano. Esegui i tuoi percorsi, segna i tuoi libri di porto. Ti imbatti in tutto ciò che non riesci a gestire. E torni. Dina, dove sei? Lasciami! Tommy, per favore fermati! No! Tommy. Devo finirlo. Non hai idea in che situazione ti stai cacciando. Cosa stai facendo? Non sai quanto sia grande quel gruppo. Quanto è armato. Non mi interessa. Non puoi fermarlo. Cosa diavolo ci fai qui? Pensi che ti lascerei fare tutto da sola?